amici come va benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale io sono luca e oggi ragazzoni sono arrivati i pescetti li andiamo a vedere subito imballatissimo è periodo natalizio ok perfetto tutto qui tutti i pesci qui ottimo ottimo borse buste belle grandi viene di ossigeno dice la nostra valentia nea sono un po agitata c'è un attimo riposarsi vediamoci il pagliacetto per sicuro è questo qui o c'è l'aris bellissimo bellissimo dai acclimatiamo il resto ragazzi gli altri due sono lumache ho visto anche che mi ha messo il pacchetto per mantenere riscaldato tutto eccole ragazzi dovevo far vedere sul fondo le borsette termiche che si mettono quando fa freddo due borsette hanno mantenuto caldo abbastanza bene il tutto questo è da buttare e ci mettiamo ad acclimatare i pesci bene ragazzola allora acclimatati è passata più o meno una mezz'oretta già sono molto più tranquilli qui c'è l'ocellaris qui c'è la valenzanea che già molto più tranquilla prima era un po leggermente agitata giustamente per il trasporto molto più tranquilla l'ocellaris anche lui stupendo è tranquillo quindi ragazzoli che andiamo a mettere in vasca bene ragazzone allora già messi in vasca a pompe ferme ho acceso la luce solo adesso ragazzoli io preferisco farlo a luci spente di solito questa operazione di inserire pesci lui è già dentro c'è anche la valenzanea e adesso lo andiamo a vedere perché si è subito nascosta ovviamente è un pesce che tende a scavare e a nascondersi vediamo se lo becchiamo eccolo qui si è messa subito subito qui sotto però meglio così così si tranquillizza ancora di più ed entra un po in confidenza dopo un po la vasca che poco sporca è felice per l'ocellaris ragazzoli che è stupendo lo sai nevole sicuri ecco di lì perfetto ecco di qui fortunatamente per adesso non sembra che si stiano beccando l'ocellaris sono più o meno della stessa dimensione quindi vediamo un po come si stabilisce la gerarchia adesso anzi lo vediamo proprio insieme bene ragazzoli allora parliamo un po del nostro ocellaris molte persone ragazzoli si fanno sempre la domanda ma è il mio pesce ocellaris è maschio o femmina questo ragazzoli la gente ovviamente se lo chiede per una serie di motivi diversi ovviamente per per sapere se appunto il proprio pesce pagliaccio no è femmina o è maschio e quindi se è possibile creare una coppia e altre persone anche appunto lo vorrebbero sapere nel caso in cui appunto dovessero inserire un altro ocellaris e vorrebbero provare anche ad avere una riproduzione ok dell'ocellaris quindi diciamo che ci sono diversi casi appunto dove una persona può voler sapere il sesso del proprio pesce pagliaccio detto questo ragazzoli diciamo che i pesci pagliaccio non è difficile è difficile appunto diciamo sapere qual è il sesso del pesce pagliaccio a prescindere perché tutti i pesci pagliaccio quando sono piccoli o sono giovani sono sia maschi che femmine o meglio non sono né maschi né femmine non hanno sesso sono neutri ok quando nascono e quindi fino all'età giovane restano neutri però sì che c'è una trasformazione ok per quanto riguarda il sesso e l'unica trasformazione che possono fare per quanto riguarda il sesso è passare da praticamente non avere sesso ad essere maschio e successivamente da essere maschio può diventare femmina la cosa è che quando diventa femmina non può ritornare maschio ok quindi resterà sempre femmina quindi anche per questo a volte vogliamo sapere il sesso del nostro pesce ocellaris per sapere per confermare se sia una femmina o no anche se comunque ragazzoli è facile confermare se un pesce pagliaccio è femmina o no in base all'aggressività e alla grandezza del proprio pesce ocellaris se il vostro ocellaris ha vissuto solo per molto molto tempo o comunque molto molto grande molto probabilmente quello che avrete in vasca sarà un ocellaris femmina soprattutto se mettete la mano in vasca e notate che il vostro ocellaris è molto aggressivo nei vostri confronti e vi pizzica anche le mani quindi quello è un segno molto probabile che può essere una femmina detto questo ragazzoli come dicevamo la femmina è più grande del maschio ok ma questo per una questione di gerarchia la gerarchia dei pesci pagliacci funziona in questa maniera c'è un pesce pagliaccio femmina dominante ok all'interno della gerarchia alla quale poi dopo in seconda posizione c'è il secondo pesce dominante della gerarchia che sarebbe un maschio ok quindi c'è un secondo pesce pagliaccio maschio dominante che è leggermente più piccolo della femmina e poi in seguito ok a tutti a questi due ci sono tutti gli altri giovani o maschi all'interno della colonia ok che sono molto molte volte anche molto più piccoli del maschio ok detto questo ragazzoli la gerarchia è femmina dominante maschio dominante e poi tutti gli altri giovani o maschi diciamo terzi ok in questa in questa gerarchia se il pesce il secondo pesce pagliaccio nella gerarchia il pesce pagliaccio maschio dovesse morire va in successione ok prenderà il suo posto un altro maschio all'interno della colonia sempre ovviamente se la femmina lo accetta ok o altrimenti viene cacciato dalla colonia e a volte la femmina può anche uccidere il maschio se appunto non mostra una forma di sottomissione adesso lo vediamo perché lo abbiamo visto proprio nella vasca in questi giorni e quindi se muore il maschio la femmina dovrà accettare il maschio se invece muore la femmina o se dovesse morire la femmina il maschio secondo nella gerarchia diventerebbe il primo all'interno della gerarchia e diventerebbe la nuova femmina ok quindi ci sarebbe la nuova femmina e in successione ovviamente nella gerarchia il primo maschio diciamo nella gerarchia disponibile diventerà il nuovo compagno della nuova femmina ok quindi la gerarchia si sviluppa in questa maniera e la femmina ha un comportamento più che altro il maschio ha un comportamento di sottomissione alla femmina come potete vedere ragazzoli dal video che ho registrato pochi giorni fa praticamente il secondo giorno in cui abbiamo inserito l'ocellaris questo mostrava un comportamento di sottomissione questo come vedete si gira da un lato e inizia a tremare ok quasi come se fossero degli spasmi questo ragazzoli è un chiaro segno di sottomissione del maschio alla femmina ok quindi il maschio alla femmina il maschio più che altro si è sottomesso alla femmina ha riconosciuto la femmina come la dominante all'interno della gerarchia e adesso ragazzoli sappiamo qual è il nostro il sesso dei nostri pesci all'interno del nostro acquario marino ok quindi il nuovo ocellaris è una femmina e l'altro è un maschio come vedete adesso stanno leggermente separati però stanno diciamo in fase di accettazione l'uno dell'altro anche perché la femmina una volta che vede il maschio sottomesso si lo accetta però continuerà a dare dei colpetti al maschio per vedere se continua ad essere sottomesso e che appunto diciamo riconosca la gerarchia all'interno della coppia in questo caso quindi la femmina a volte continuerà a dare dei colpetti e nel caso ragazzoli il maschio non si sottometta alla femmina quello che succede in vasca in vasco in natura è che appunto l'ocellaris tenderà ad uccidere il maschio o comunque ad allontanarlo questo perché appunto non è sottomesso alla femmina e quindi diciamo che la femmina dovrà trovare appunto un nuovo compagno quindi viene automaticamente cacciato o ucciso e niente ragazzi spero che questa spiegazione vi sia stata utile continuiamo con il filmato ehi tu dove stai andando? bravo torna lì perché tu devi stare in 30 litri che la gente dice che devi stare in 30 litri capito? attimo vai dai ancora? te ne vuoi andare nei tuoi 30 litri per piacere? ancora qui? dai? ehi? ehi? torniamo a casa? dai? no no ecco vai 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 nei tuoi 30 litri per piacere che non ti devi muovere da lì perché lì va benissimo per te e non ti allontanare ti sto dicendo e dai? dai? niente niente sarà che gli piace forse nuotare liberamente e non stare in 30 litri bene ragazzoli allora non vuole essere un video polemico va bene? però vabbè già lo vedete da voi che si allontanano dalla propria nemone calcolate che abbiamo scoperto da poco che questa è femmina come abbiamo detto appunto nel corso del video le femmine sono quelle che sono più dominanti e restano all'interno della nemone mentre il maschio come vedete resta quasi sempre fuori dormono insieme però resta fuori e gira detto questo ragazzoli come ho detto non vuole essere un video polemica vi lascio ovviamente a schermo tutti gli articoli scientifici sui quali nei quali si parla del del litraggio minimo dell'ocellaris ok? vari litraggi minimi per l'ocellaris studi scientifici firmati da biologi ve li metto a schermo ovviamente vi metto tutte le fonti scientifiche sotto a questo video perché ragazzoli dobbiamo mettere le fonti scientifiche non video di altra gente o soprattutto di allevatori e appunto fonti scientifiche dove si parla anche di riproduzione di ocellaris ma che specificano bene che gli ocellaris la coppia li mantengono a parte in un acquario a parte più grande ok? che è circa dai 60 ai 100 anche 500 litri per una coppia per appunto vedere i comportamenti naturali e in base a quei comportamenti naturali si è stabilito il litraggio minimo ragazzoli detto questo spero che questo video come sempre vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video ehi dai in 30 litri tutte e due per piacere ciao 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 Grazie a tutti